Mori della corte e del server della club a rosso, buon salve, benvenuti a questo ottimo appuntamento con mazzi belli e belli belli Questo è un izet tempo, fatto dalla nostra amica dal lungo tempo, Danielona Olidiva Diaz Quindi un salutone, andate a seguirla su Twitter, Twitch, tutte le cose, grande, grande, grande content creator spagnola Di Magic da tanto tempo e sta praticamente giocando solo izet e cose simili a izet tempo, monoblue tempo, queste cose qua Delver eccetera e questa è l'ultima lista con la quale stavando un sacco di successo sia nei tornei che nella ladder Nel quale c'è arrivata una roba tipo top 10 E' un tempo deck, è palesemente un tempo deck, non c'è Delver in questa qui Ma c'è sempre Fable perché ormai praticamente se giochi... Fable è... possiamo dire Aboncrusher Giant? Possiamo dire Aboncrusher Giant Fable? Cioè se giochi rosso giochi Fable, basta, ormai non c'è opzione Se giochi rosso giochi Kijiki Avevamo leggermente sbagliato in review Quindi andiamo a giocare Questo mazzo dei mazzi Ma andiamo in ladder, ma che cazzo me ne frega Quanto sbaglieremo? Cheat È standard, sì, è standard Quante... quante giocate sbaglieremo con questo mazzo? Facciamo tutte? Kijiki spacca sprizi Sì, sì, che va al bar e rompe tutti gli sprizi Già che siamo first Tenibile Lunga vita e prosperità a te Klangel, buon pome Beh, una mano anti-aggro Di male Dimir può essere ninja, può essere fero Voglio fare play with fire adesso per scraiare Tanto è esper Tanto è esper S per control, peraltro budget Judas TV E fu Dimir zombie Io do la terza terra di volerla Grazie Pelli, grazie mille Pelli Andiamo di sospettoso sta Huawei Boh, è 413 Con le terre base Ok, invece ho sbagliato Ho tirato un play with fire a cazzo di cane Va bene, va bene Vabbè, scartiamo la terra Iterazione Male Lo sismic wave mi sa di forte Vabbè, Hermit non serve a un cazzo Anto sto match-up Quindi me lo son tolto Dai Beh, se fa almeno uno Abbiamo un ottimo No, ha fatto plus Allora io ti rimbalzo questo Traia per terra Sì, 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 sì Ci mostri, ci mostri Beh, preferisco questa a sto punto Pazzo Pazzo adelante Vediamo faccia al ninja La fine era di Mirzombi davvero Vodichè, povero, ci è arrivato a 413 Ragazzi Mi state dicendo che si può fare top 500 Con le terre base Con le terre comuni tappate E fanno un punto vita Il mondo sta andando al contrario Peschi Peschi pure Peschi C'ha le terre doppie brutte O forse ha tutte le terre doppie Ok Magari ha tutte le terre doppie Voleva 8 terre doppie Ho detto sti cazzi che sono tappate Decisione opinabile Preferisco le base di queste Ve lo dico No, le odio Mio Dio, aspetta Voglio porti un quesito Se non te sarebbe worth Se appena uscita un'espansione Si usassero le wildcard comuni e non comuni Perché fare tutte le suddette carte Della data di espansione Sì, lo fanno tutti È la cosa da fare Prima di un'espansione Mi stai dicendo che Non fai niente Ma se io aggredisco a merda Raggredisco a merda Intendo faccio un 3-2 Ok Ok, spiegami lo stop Infatti non me l'hai spiegato Cambia tanto attaccare Kaito Sì, perché se ult è un problema Dietro tuo consiglio Al fine ho preso la segretta elettronica Grande Va a tre resistenza Appena mi arriva te li dirò Riesci a far smettere Ti faccio un regalo Grazie Spero per te Te lo stai facendo da solo il regalo Te lo stai facendo da solo il regalo Sion 86 mana Oh Cristo Va bene Va bene La puttana è ovunque quella carta Ovunque La marcia è interessante Vorrei pensare un po' di ciccia Tipo un adversario Fable Amalgama Devo iniziare a chiudere un po' più velocemente Qui eh Aspetta ti massacro Per forza Vedrai Magari ora fa avversario Paga Fa avversario e paga No fa Sorino Sorino buono Perché si toglie bene A posto Sorino si toglie senza problemi Questo è very good Ok se lo mangia Ah io non so se rimanere stappato Di marcia Per evitare il suddetto massacro O fare adesso Fable Farsi falsiamo i standard E lo giochiamo GG Quanto indietro rimango Se faccio Fable Fa massacro Ho perso Quindi tanto indietro Rimango Rimango tanto indietro Assai Tre mana Quattro Sei mana Sette mana No non è vero Anche IZ Anche IZ Raghi Se lo spacco subito Non prende I cose Giusto Non prende i segnalini Anche Rakdos Sacrifice Fa troppo valore Fa 74 per 1 Sta carta Beh ovviamente ora non paga Però ora potrebbe fare massacro Però era giusto L'hai fatto Ok non mi sembra una lista Che faccia massacro di main So scemo Non mi sembra una lista Che fa massacro di main Ok non mi sembra una lista Pazzo Ok non mi sembra una lista Comunque si Gioca a quattro doppie E quattro doppie Non Se ne sbatte il cazzo del turno uno Sto mazzo No aspetta Dai lo faccio attaccare Ah abbiamo peccato la stessa persona Bene Ci provo Ci provo Se c'è un removal Ho perso Intanto sto perdendo uguale Sto giocando Il izet tempo Di Holy Diva Nonché Daniela Diaz Nonché Una di quelle Di quella manciata Di persone Che salvo Dal panorama internazionale Una delle poche Che mi sono simpatiche Effettivamente Vabbè Eeeh Auguri Offro io Va bene Allora Non mi sembra un mazzo Che c'ha troppo Che costa quattro Oddio Desperre è una carta che esiste Allora A nulla non lo vogliamo Vogliamo Hermit Sismic Wave Un po' fa Perché c'ha I due e uno Però magari non quattro per Ma anche Bolt Un po' male Abraid Royal Eruption Ma anche Rebuke Fanno un po' schifidis Quindi due stroke Li mettiamo sicuri Che marcia Mi sembra un po' me Altro stroke Lo voglio Alla fine C'è comunque Invoke Despair Lolt Soarin Sono quelle le cose Da un fastidio Non credo di voler Quattro stroke Io non credo di voler Quattro stroke Contro quel mazzo Ho sbaglio Però è meglio Di play with fire Diciamo Sì Allora a sto punto Mi tengo a review No A sto punto Mi tengo a braid A instant Vai Non facile Matchup Non facile Perché è un mazzo strano Uno di quei mazzi Mid range Che non sai bene Come comportarti Non sai se aggredisce Se controlla A me sembra buona Ma è male Massacro da quattro Va sotto stroke Sì No neon Non l'ho visto Va bene Resta E' puro dimir Mid range Con quattro Despair More Pessima mana base Pessima mana base Non è il momento Ne ha due Che piangi Ma gli faccio un favore A fargli wave Faccio assolutamente Un favore Oh cristo Vabbè proviamo Dai You are No niente Ma lo sapevi O stai sniperando No Non sta sniperando Sì Cioè Gli ho fatto un favore Va fatto Prima o poi Voglio dire Non è che ci posso girare Troppo intorno A questa cosa Sennò mi ammazza Di uno uno Ho preso il peschiera Del guard Credo di volerla La favola Di Kijiki Il problema è che a notte I trespasser Scendano 4-4 E merano forte forte Ti dico pesca Ti dico pesca Massacro da zero Interessante Ti dico pesca Non c'è stare call Non male Ti dico L'hai fatto Aggrediamo Proviamo Boh Se fa l'olt C'ho spell Pierce Magari pensa C'ho Gwari Forse pensa C'ho Gwari Cosa mi cambia No mi cambia C'ho un mana in più Per fare l'olt Prima ho guardato il video Giavea Zori Si ora apri qui E fai izet Questo è un delmo Si è convertito al contro Dopo aver vissuto Per sempre l'agro Non è vero Ma è almeno un anno Che gioco tutto È almeno un anno Che gioco tutto È iniziato tutto No di più È iniziato tutto Wilderness Reclamation Ragazzi Da Reclamation È iniziato Il declino Ormai È un giocatore completo Lo riprendo in mano Si Forte No grazie D'altro sto scry È forte Che terra Vi faceva veramente Cacare il cazzo Dai fai Sorin Fai l'olt Gebaited Madonna chetati Sei di stare zitti Madonna è fastidio Sta persona Gasto Beh è grossa No declino Non è male farci Fedinop qua Non fa schifo Fare Fedinop Non gli do il tesoro E faccio scry 1 Non gli do il tesoro E faccio scry 1 Mi piace Sta way way È un po' tardi È un po' lento Non mi abbiace Oh è quasi parente di morto Tra terra e avversario Domanda Kikijiki Può copiare All of the Storm Giants Giusto? È una creatura Non leggendaria Quando lo trasformo Quindi se io ho 7 mana Faccio 6 mana All of the Storm Giants Copio 14 danni No la copio come terra Ok a posto Niente scherzavo Domanda da ruling Scusate Non mi sono mai trovato Nella situazione Di copiare La Man Land Allora no 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 Vabbè Se hai 13 mana Puoi farlo Nel dubbio Partita ultra late game Hai 15 terre in campo Lo puoi fare Male Ma non malissimo Ti devo dire Ti devo dire Che sei comunque parente Di quasi morto Ora se io trovo Un removalino qui Sta way 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 A sto punto no Fammi contà 2 4 6 Questo è 2 3 4 5 Questo è 5 E 8 Non è mai letale Cioè è letale con la terra Dove semplicemente Sta buono Ma mi sa che qui Attacco sempre Ciao Mitea Tutto a posto Te? Tutto bene? Figlio E non chiedo scusa Sicuramente Non chiedo scusa Per questa botta È quasi un mirror Se ci pensate Cambiano i colori Ma lo stile è quello Siamo tutte e due Tempo valido No Lui è più proprio Mid range Io sono proprio Tempo puro Oh Ma da 11 Ah ito Puzza Non mi dico Che fai bloccante Perché mi fiscia addosso Ah ok Eh hai bisogno di qualcosa di sodo Via Dai ce l'ha un remove all'instant Ce l'ha Ce l'ha Ce l'ha Ce l'ha Ce l'ha ma è morto uguale Quindi Ciao Mi piace sto stop All'upkeep Cosa fai Scimmia Spirito guid Ma Quanto toxic Quanto toxic Chiedo Quanto toxic Può essere una persona Allora Stroke Mi sembra Abbastanza necessario Non ha l'alt Ragazzi Non ha l'alt Mi servono i bolt Per esiliare i pezzi Io abbasso Di stroke Abraid è un po' Una merda Mi sa che ha tolto I brezbuzz On vile wings We rise Cioè è una delle frasi Già preimpostate Bolt è forte Perché gli esilo tutti i cazzicchi Più di sismic wave Perché sismic wave Comunque gli fa valore Però spara kaito E sorry Non ho due le lascio Perché tolgo No hazard è forte Bolt è forte Magari non tre E sta way way Forse è la carta peggiore Contro sto mazzo Fa un po' schifo Magari l'ha tolta Che dice Contro un tempo deck L'alt di quinto E si becca a spell pierce È un po' una merda Io toglierei Invoke despair Contro sto mazzo Cioè nel senso Che è vero E spacca kikikiki Ma tanto non te lo farò Mai fare open Mai Mai nella mia vita Te lo giuro mai Cioè Non arriverò mai A turno 5 Senza almeno una counter In mano Esatto L'occhio di twitch Ci saluta senza lezione Buono 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 iteration Vai Non ti muto neanche Parla parla Lamentati Ogni tua lamentela È una lacrima tua Che va nella mia gola E mi nutre Che è qui Voglio sta open Io Non voglio Fai iteration Mi serve terra blu Sennò persa Molto bene Canzone Canzone Beast in black Dei beast in black Geist Tori pigli in mano Tori pigli a mano Tori pigli a mano O glielo sfondiamo No Se lo ripiglio a mano Perché voglio screa Mi piace Spell Pierce Mi piace tanto Credo di dover Fare adesso Fable Mi apro Al turno di Lolt Ma è vero anche Che questo Spacca da solo Tutto Lolt Cioè Quindi Non ho paura Dalla peggio Fa Hermit Fine Questo è malissimo Questa dura E se è l'inferno Per me La forza Di questo Di questo Di questo mazzo È quando Non sanno Cosa In mano Se lo sanno È un problema Però almeno Non mi becco Disperre E qui mi sono Aperto a disperre In una maniera Gravissima Però non potevo Sta fermo a grattarmi Cioè Prima o poi Devo fare qualcosa Devo prendere dei rischi Ogni tanto Però era esattamente Questo il turno In cui dovevi fare Dispersa Non lo fai Ora non lo fai più Amalgam è forte In culo Amalgam è forte In culo In questo momento Perché se mi rimane Il 2-2 Io ho la counter Aperta Fissa Per sempre F per il gobelino E abbiamo voluto Un sacco bene Al gobelino Beh ho fatto Un bel trade Ah MCQ È limited Questo è per il torneo Allora se fallisco L'MCQ Domenica C'ho un torneo standard Il torneo Quello della stream league È standard Quindi potrei Volleggiare questo Non è indeciso Passo Non faccio un cazzo Perché dagli il trade Se io faccio Amalgam E mi rimane In campo Counter Tutto per sempre Non mi sembra male Come opzione Peglio lo sismo Adesso Però posso Fasarglielo Così non mi counter E' meglio Fasarglielo Gabri Fasarlo Gabri Fasato Signore Hermit Quindi se io La pesco Terra Tu sei la vita Tu sei la vita Tu sei la vita Sei l'amore Sei un tesoro Sei un cucciolo Bellissimo Di panda Caro Enzo Che ha detto Chiamala Polizia Sismic wave È effettivamente La miglior risposta All'olt Del meta No joke Cioè la gente fa l'olt Te fai sismic wave E fai 36 per 1 Ciao Quanto è bait Sta per farmi Malling Si sta per farmi invoque Tocca Vabbè io rifaccio il pippolo Allora vaffanculo No a sto punto Faccio l'altra fable Cosa rischio Se mi fa invoque Sarifico Quello Sarifico questa Lui è già in campo Sarifico il goblin E questa Amen Fa 1 per 1 Invoke Massacro male Allora il discorso è Io ho vinto Appena stappo Con questo che può attivarsi E amalgami in mano Questo non dovrà succedere Però non è un problema C'ho ancora quest'altra Che deve attivarsi Bene No Sono smitto 0 Voglio tutto Va Va benissimo Fa valore Ma non vola Non fa un cazzo Panico Panic draw 4 mana Pesco 1 Bene Tiro nel viso Che devo fa' No Due danni Godi Allora questo C'è scritto Hermit Sì sì Oggi Oggi metallo Oggi metallo Domani tuttolo Oggi metallo Avete capito? L'avete capito? La burla Eh? La burla Metallo Scusate Non alza a base Per favore Gasto Va bene E fallo Mario ermito E fai Enzo Cadetto Non dire Parolacce Ho vinto Ho vinto Basta Vinto Vinto per sempre Finita Finita È come il lock Del Konasuar Amalgam Kikikiki Agram Alling No A te Vai Peschi Basta Finita Finita Ho anche il mana Per fare Tu Tutto Sì No perché Dai Perché No non hai capito Io non farò mai Questo nel mio turno Adesso È una counter Per sempre No no io non rischio nulla Perché attaccare con un 7-7 E viene parato dal ghast Va bene Vabbè Quello era il Kikikiki Vero E il Tuttennail È stato il mazzo Più bello Dell'epoca di Myrddin Fanculo Affinity Quello era un mazzo Vero Abbuiato dalla presenza Di Affinity Purtroppo Però Tuttennail Con Kikikiki Era un mazzo Vero Verissimo Revolent Geist Io glielo Spacco Glielo faccio Risolvere E poi glielo Spacco Z Z Ok Ah ho vinto Oh Good game Amuki 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 All'Ital 3 4 5 6 7 8 9 Non Non è lì 10 11 Non è l'Ital Perché rischiare Scusi No aspetta Oh è l'Ital L'Ital Oh è l'Ital Adesso Che cazzo faccio Scemo Ciao Boia Che partitone Che partitone Bello Praticamente l'intero video di youtube è stato sta partita 40 minuti Non posso fare Non credo di poterne farne un'altra perché Perché viene troppo lungo il video No Ale torna a terra se la copi È una terra vuota Che gran mazzo Che gran mazzo Ma è una bellissima posizione Non è messa Oppure Questa Uguale Ti costa uno in più Devi aver stappato due mana Ma comunque anche questo lo puoi fare per sempre Lui Lo stesso Lei Insomma Non mi permetterei mai di misgenderare Lo fai Con tanto mana Continui a fare le cose Bello Dragon turtle Ragazzi Dragon turtle È un lock Per gli aggro Con Fable of the mirror breaker Dragon turtle Eh gioca a rebuke invece di molten Perché è standard Dragon turtle Se la copi in continuazione È un bel palo nel culos È un 3-5 bloccante per quel turno Che tappa narratura fissa Minchia E seismic wave È oggettivamente La miglior risposta Esistente per l'alt Instant speed Tre mana Spacco l'alt I pippoli E tutto ciò che hai nella bordo Che c'ha uno di sostituzione Non male Non male Ciao it's dudes Quindi brava Daniela Cazzo Brava brava Mazzo Veramente Veramente bello Questo mono annul E anche qua Mi fa un po' cacare Ma dipende dal meta Io lo toglierei Questo annul Sono sincero Se dovessi fare dei cambi Io metterei direttamente O 3 spell pierce O un'altra Chihuahy Al posto di questo annul Almeno di main Se io dovessi fare un cambio Metterei 2 chihuahy E toglierei annul Oggettivamente ok Artefatti incantesimi ci sono ma Cioè se ti trovi grull aggro O mono verde Cioè solo esclusivamente per ranger class Mi sembra un po' eccessivo Oddio c'ha anche carretto in standard Però fermi No ok dai ci sta Uno per ci può sta Io mi sentirei più safe A mettere la decide Piuttosto metto di main Un altro hermit O un bolt E due annul decide Però altri cambiamenti A questo mazzo Veramente non mi vengono in mente Anche sto royal eruption Mi fa un po' cacave Devo dire Mi fa un po' cacave Il royal eruption Ma se c'è c'è un motivo Probabilmente glielo chiederò Probabilmente chiedere Faccio prima chiedere direttamente A Daniela Dani Perché il royal eruption Mono Nella lista? E fa 5 danni alla fine? Ci può essere di meglio Da ammette Dai Ci può essere di meglio Da ammette Rispetto al mono royal Ma io credo Ci sono tante cose Meglio che puoi mettere Al posto del mono royal Io vorrei andare A 3 amalgam Però effettivamente La curva poi si alza tanto E giriamo 21 terre Più modali Quindi Calmi Però Grammazzo Grammazzo veramente Brava Dani Ma infatti Ci ha fatto top 10 Voglio dire Signora lista Signora lista Signora lista